Ahi! Aguario! Signor Carminella Scasciata! Vaspieto! Allo spettacolo mio! Il 4 giugno 2016 alle 7 Alla Sava Fontana Primavera Puttibrige cena completa con open par Un spettacolo con mia Carminella Scasciata e se balla con vince da rosa i ragazzi italiani tutto soltanto 80 dollari Se vi servono informazioni potete chiamare al suo numero segnate, segnate 905 265 8100 e Carminella Scasciata va aspettata davvero!